ciao a tutti i miei discepoli torniamo in laboratorio oggi con il tasso torniamo a fare un piccolo discorso per quanto riguarda l'estate quindi quando si conclude con le potature come capire quando è il momento di fare basta per non far danni come capire invece se ancora il caso di tagliare qualcosina e soprattutto come capirsi abbiamo fatto un ottimo lavoro ok visto che ci siamo andiamo a vedere intanto il mio tasso 360 gradi vediamo sta bene ok andiamo a vedere il verde celà superverde in estate ha fatto anche questi cacci ok questo questo sono molto forti vigorosi quindi oggi questi qua visto che escono anche tanto dalla silhouette non mi servono quindi andiamo ad accorciare subito ok questi qui così che vanno tanto su li facciamo saltare lasciamo qualcosina dietro e siamo a posto ok ovviamente la pianta sta bene la struttura primaria è già impalcata già impostata quindi possiamo già iniziare praticamente a continuare a fare le finiture senza problemi tanto problemi non ce ne saranno che se riparte e fa altri cacci lunghi bene se non li fa chi se ne frega ha tanto verde dietro comunque sia sarà già pronta per il prossimo anno per cacciare di nuovo ok quindi se la pianta è stata bene tutto l'anno abbiamo già tutto il feedback che ci serve della pianta per capire se possiamo mettere mano oppure no se invece il bonsai ha avuto qualche difficoltà ovviamente prima di andare a fare i giochini e di fare cose così come capita che ancora ne vedo tanti e tanti che fanno cose come capita poi dopo ho fatto bene sì il discorso quale ragazzi nell'altro video io ho consigliato di entrare in simbiosi con la pianta prima di no prima di fare tutti quei ragionamenti invece no su cose strane piacca le marette quelle cagate che vi hanno raccontato per carità magari possono servire anche quelle non dico di no però l'obiettivo primario quello di iniziare a capire cosa fa la pianta se lo sta facendo bene se il caso di fare qualcosa per fargli fare qualcosa o se invece ste piante non si muove di una virgola cioè io vedo che ancora sono troppe persone che festeggiano vedendo piante che fanno due buttini così posto a vegetato esplosione su bomba ma che bomba ragazzi ma cazzo ma vedete quello che faccio io nei miei video se vedete la differenza anno dopo anno come si costruisce e come si trasformano le piante perché se no ogni volta stiamo qua a festeggiare per dei risultati che sono ridicoli ok quindi regola 1 sarà brutto da dire ma sappiate che il 90 per cento delle persone si sbaglia cioè il 99 per cento della gente che fa i post non capisce un cazzo di bonsai fine primo perché non lo stanno facendo proprio cioè avere due ciclamini togliere la fogliolina terza gemma tagliare magari hanno un canale youtube anche loro magari spiegano danno consigli quella gente che col bonsai non ancora iniziato so che è brutto sarò stronzo però ovviamente detto da me che sono il numero uno in italia perché sono il bonsista più famoso in italia poche pugnette questo è bisogna prenderla e accettarla come verità assoluta come sempre quindi se state seguendo altri personaggi se siete felici va bene continuate non mi interessa se volete invece iniziare a fare bonsai bisogna iniziare a dire ok via sta merda iniziamo con il dio del bonsai e noterete che già in un anno la pianta vi fa 45 volte quello che faceva prima che non è uno scherzo è così il video lo fan vedere i miei clienti e le recensioni di sono sul sito vi mostrano tutti i giorni quello che può succedere sulle piante quando la coltivazione è curata nei minimi dettagli ok tra parentesi coltivazione curata nei minimi dettagli significa dare acqua con cime veramente far allungare esplodere veramente le piante fare stare bene poi magari fare qualcosa che non è che nei minimi dettagli significa sapere 200 nozioni no perché il nostro obiettivo non è studiare 200 mila robe ma semplicemente guidare la pianta verso la costruzione la trasformazione quindi l'innalzamento anche del valore so che non ha nulla a che vedere con le puttanate zen che mi ha raccontato lo yin lo yan la kadama quella roba lì non ha nulla a che vedere però il mio obiettivo con dei miei clienti è quello di costruire la piante nel minor tempo possibile e senza mille seghe mentali senza aprire libricini depliant che tanto poi alla fine non servono anzi cioè con la filosofia ragazzi giapponese cinese australiana quello che volete non si fa bonsai cioè fine è quello che mi ha raccontato nei vari corsi dove vi fanno vedere che dove vi racconta la storia del bonsai perché una volta in cina le piante c'era bisogno di prenderle di portarle via allora le ha messo in vaso perché la carestia quindi allora è quello che dovete capire ok sono ste cose sono contento bello bello e facciamo bonsai a un certo punto che smettiamo di raccontarci tutte ste cose iniziamo a mettere mano alle piante perché quello bisogna fare alla fine tutto il resto non serve a niente con i ragazzi io nei miei video non è che vi racconto no cose strane cose cose filosofiche perché poi quelle cose lì non vi portano a casa il risultato no quindi se a fine anno volete una pianta prima di tutto che vegeta bene che sta bene poi dopo se la volete anche che cazzo che si lavora che va che va avanti a divertirvi sapete perfettamente tutto quello che trovate sul sito vi accompagnerà verso il vostro traguardo senza forze senza ma però senza dubbi che si fa due cose fatte bene e poche pugnette come vedete ragazzi quando poto prima di tagliare prendo dalla punta e alzo che perché voglio vedere bene come messo il butto sotto voglio vedere dove sono altre ripartenze voglio vedere anche dove deve stare veramente sto pezzo di vegetazione no quindi se sopra questo qua deve stare semplicemente come bombatura del palco quindi tutto quello che sta dietro va potato e abbassato un pochettino però deve stare sopra ovviamente tutto quello che sta perimetrale no perché comunque il palco deve andare verso l'alto così no perché deve riempirsi per quanto riguarda la questione quando fermarsi con le potature allora molto semplicemente bisogna soltanto guardare come è messa la pianta e cosa sta facendo e cosa potrà fare dopo quindi state colcimando a bomba e vedete che la pianta vi ricaccia e vi matura soprattutto la vegetazione potete tranquillamente continuare ad oltranza a fare potature sistemare a fare quelle cose che dovete fare ok senza tante storie se invece vedete che la pianta a un certo punto soprattutto a fine estate inizia a lavorare in maniera conservativa cioè quello che ha lo matura però non butta fuori qualcos'altro non significa che state coltivando male la pianta significa semplicemente che questa pianta qui ha deciso di iniziare già con la questione autunnale quindi ha deciso di iniziare a stringere consolidare che lignificare i butti per far sì che si prepari per l'inverno praticamente ok quindi l'obiettivo è semplicemente fare legno perché quando sarà freddo poi la pianta dovrà tenere su tutti i rami ok perché se in inverno iniziamo a perdere ramificazione tutto quello che abbiamo costruito durante la primavera l'estate andrà perso ed è quello che non vogliamo quindi nostro obiettivo è fare più rami possibili possibile e poi a un certo punto anche tenerli su tutti perché sennò è un problema poi per quanto riguarda invece la questione ha però i rami che sono più posso già farli saltare ragazzi in linea di massima sì però attenzione cioè è buona cosa arrivare al dunque ok quindi a stasi vegetativa con più roba possibile ok perché poi un certo punto la pianta è ferma abbiamo la situazione davanti a noi diciamo ok questo faccio saltare questo tengo cioè più roba abbiamo che quando era di mettere mano abbiamo più scelte più possibilità anche di decisione abbiamo anche ho anche opportunità di sbagliare molto spesso no perché se abbiamo tre quattro rami che parte tutti da stesso punto no se andiamo a selezionare perché ovviamente solo uno dovrà rimanere però se li selezioniamo subito quando era di impostare poi mettiamo caso che mettiamo filo si rovina il ramo e dopo ramo non c'è più se invece abbiamo uno appena lì di fianco altri due di fianco mettiamo il filo succede qualcosa andiamo sbattere si rompe con ramo lì via togliamo e leghiamo quello di fianco ok quindi per quanto riguarda soprattutto sulle latifoglie ragazzi per quanto riguarda i latifoglie secondo me è buona cosa fare potature strette dopo che si è impostato i rami ok per me è fondamentale perché se no rischiamo di non avere più niente da impostare e siccome all'inizio le persone i ragazzi discepoli hanno molta difficoltà a mettere mano le piante ha un paura non hanno manualità perché il filo è semplicemente manualità è una manualità oppure usano addirittura dei fili che fanno cagare roba da ferramenta rame crudo roba che non hanno non ha senso molto spesso succede che tutto quello che si fa va ripreso ok per quanto riguarda questo tipo di aghi qua ok ve li faccio vedere così cerco di essere più chiaro possibile questo tipo di ago qua che diventa un giallo che alle punte bruciate questi ragazzi sono aghi vecchi ok sono rimasti scottati dal sole per questo che era una pianta che teneva il sole l'ho messo un pochettino in posizione più ombreggiata e quindi questi non è un problema ok questi aghi qui il prossimo anno quando andiamo a fare l'impostazione quello che volete in inverno possiamo toglierli tutti perché tanto la pianta già ributtato vegetazione nuova più fresca e quindi tutto quello che c'è dietro non solo possiamo toglierli ma dobbiamo toglierli ok quindi questa è una specie di pulizia che si fa sulle piante che hanno sparato bene no quindi possiamo già togliere qualcosa una cosa fondamentale per quanto riguarda le potature sui tassi cioè sulla pulizia dei tassi ragazzi pulite tutto dietro pulite dalla vegetazione che è attaccata dell'anno prima su dei butti già lignificati come i rami primari quella roba lì che non ci serve più però attenzione quando fate questo lavoro dovete sempre guardare quanta vegetazione c'è nell'insieme quindi cercate di sviluppare una visione totale sulla pianta e in più quando fate queste pulizie qui associatele sempre a delle potature ok 100% cioè la pianta risponderà il triplo perché se no andiamo a pulire svuotiamo dietro però la pianta continuerà a cacciare avanti invece bomba super bomba quando puliamo potiamo anche così rientriamo stimola simuliamo la pianta cacciare da dietro e in più abbiamo anche più luce che entra dietro perché abbiamo pulito dalla vegetazione vecchia ok quindi 100 per cento del risultato però ci siamo a posto ciao tutti state bene lasciate un mi piace condividete iscrivetevi al canale attivate la campanellina per tutto quello che vi serve claudio bonsai.com così con cimata bomba trasformata le piante e poche pugnette che soprattutto poche pugnette se avete dei dubbi mi scrivete in privato se non sapete cosa comprare mi scrivete in privato vi dico io tranquillamente sono due cosine che vi servono per iniziare tranquilli andate giù però è importante prendere tutto quello che ci serve per partire avere meno problemi possibili l'anno prossimo no perché quando è febbraio marzo la pianta riparte e lì dobbiamo avere tutto pronto per la ripartenza ok perché se abbiamo substrato di qualità e la concimazione che fa sparare a bomba rami ragazzi da lì noterete che c'è un cambio totale della vostra pianta ok quindi coltiviamo semplice meno robe meno storie meno mondezza sul vaso meno roba organica merda che porta tutti i vermi bruchi formiche tutta quella porcheria lì e siamo pronti per avere il massimo del massimo andiamo a vedere la pianta visto che ci siamo ok ho fatto una potatura e quindi si continua a costruire adesso qua sicuramente dovrò fare un po di definizione togliendo un po' questa roba vecchia dietro no comunque la pianta è una bomba sta da dio è una figata c'è un secco della madonna io ce l'ho ok ce l'ho io gli altri non ce l'hanno ciao a tutti i fatti bravi a bomba ok sempre di più ciao a tutti